Il cinema di Nanni Moretti non è un cinema molto musicale, non è un cinema nel quale la musica possa dare la spinta fondamentale e cambiargli faccia. Tutt'altro è un film in cui la musica ha un ruolo abbastanza marginale. La messa è finita soprattutto, magari negli ultimi film c'è stata una modificazione, non voglio dire un'evoluzione, ma una modificazione di rapporto con le emozioni, con l'emotività e quindi con la musica. Ti senti sola con la tua libertà ed è per questo che tu ritornerai. La musica cosiddetta leggera che entra nel cinema di Nanni Moretti c'entra come gli oggetti della sua vita. Una canzone più o meno bella che sia diventa un oggetto dell'autobiografia, diventa qualcosa che si è frequentato, entra nel film come c'entra un mobile, un quadro, un bicchiere di Nutella. Sono cose che esistono, quindi il cinema di Moretti può costruire una grande scena anche su una canzone che potrebbe, non è adesso il caso di queste canzoni qui, sia chiaro, che potrebbe anche essere una canzone ridicola, ma una canzone che oggettivamente fa parte della vita dei personaggi e che in generale è una canzone che ha fatto parte della biografia personale di Nanni. Come se attraverso queste canzoni, magari canzonette anche ingenue, anche semplici, Moretti appunto cercasse di raggiungere, di toccare quei sentimenti che poi invece nella vita non si danno più, usandoli magari anche in modo aggressivo come quando per esempio alza il volume per non sentire qualcosa che non vuole proprio ascoltare. Si girava meno già rispetto a Bianca, era molto più strutturato ogni ciac. Nanni aveva già più chiara la visione ed insieme di quello che lui voleva da una scena, come dirigere gli attori. C'era stata un'enorme immaturazione a livello registrico fra un film e l'altro. Lui fa molti ciac, è un modo di lavorare, è come un pittore che invece che andare con uno schema preciso, continua a fare schizzi a bozzi fino a che trova una forma e sceglie quella. È un modo di rapportarsi proprio con l'attore e con la recitazione di fare da ponte, un ponte elettrico. Quindi lui secondo me mette appunto bene la sceneggiatura in maniera forte, senza perdonarsi nulla. E poi dopo si perdona di più nella ricerca della recitazione. Don Giulio è violento in tutto, in questo è molto poco sacerdotale, è così trascinato dalla forza delle sue passioni. Non conosce virtù, non ha certo pazienza o temperanza, è qualcuno che vuole molto, che vuole tutto dagli altri. Se non subito, lo vuole il più in fretta possibile e non tollere appunto, ripeto, che le cose non vadano secondo i suoi voleri. Ed è per questo che non esita anche quasi ad aggredire fisicamente, a strattonare gli altri personaggi, i suoi familiari in particolare. Perché se in bianca il problema è la coppia, qui la coppia è proprio la famiglia che va in pezzi, si frantuma, si sgredola. Non basta che il primo genito si faccia prete. Quello che Don Giulio non perdona agli altri, non perdona a se stesso, è il suo non riuscire ad esercitare questa funzione di tramite. Voglio dire, il prete in questo caso più che mai è una specie di go between, un messaggero, qualcuno che va fra due rive e cerca di avvicinare le persone, di avvicinare le persone a se stesse o fra di loro. Ma è un messaggero di cosa? Non è sicuramente un messaggero d'amore, non riesce a essere, figuriamoci, un messaggero di fede, neanche ci prova. E' qualcuno che non riesce, nonostante vesta, come dire, i panni sono anni, ricordiamoci che sono 85 di preti in tona che se li vedono già molti meno in Italia. Insomma, siamo già in un'epoca in cui molti preti sono in abiti civili. Questo prete così tradizionale, che veste proprio la sua palandrana lunga fino ai piedi, ci rimanda a un'immagine austera e così di sacerdote molto compreso nel suo ruolo. Eppure è un sacerdote frustrato. Il sacerdozio è l'ultima delle missioni che può espletare. A me mi affascinava questa parte non verbalizzabile del personaggio, una sua grande violenza interna che non esplode, una certa violenza implosiva nei momenti in cui non era aggressivo con l'esterno. E' un sentimento poi invece angosciosamente melanconico che è sintetizzato in quel momento in cui lui vede il bambino nuotare, il bambino che non avrà la fortuna di avere dei genitori uniti, quasi come un'ossessione del personaggio. E' lì un momento di abbandono, di sentimento che ricordo molto toccante. E' bello il suo discorso finale, il gioco del calcio nel piazzale, stare alla spalletta e guardare la città. Insomma ci sono tantissime cose belle.